ciao a tutti benvenuti a un nuovo video sulla guida riguardante il tamagotchi music star oggi vediamo la fase di adulto e per la prima volta cherry si esibisce con il suo gruppo diventati adulti anche loro anzi adulte perché sono tre femmine si stanno esibendo in una piazza perché si esibiscono in piazza questo accade quando non avete ancora un contratto discografico infatti in questa fase di vita la cosa principale è trovare un contratto comunque qualcuno che vi faccia passare l'audizione per avere un contratto con una casa discografica e un agente abbiamo i soliti quattro gatti che ci ascoltano però finché non avremo ottenuto un contratto non possiamo guadagnare soldi tramite la musica infatti gli unici soldi che arrivano sono quelli sono quelli dalla mamma ogni tanto passa a farci visita e lasciarci qualche gocci points però anche se suona quindi in questa fase non riceve soldi può farlo solo una volta che avrà un contratto discografico come si fa prima di tutto bisogna durante la fase dell'adolescenza e poi dell'età adulta guadagnare quanti più punti nelle tre abilità per ora non li ho ancora massimizzati per cui sebbene ceri abbia fatto con il suo gruppo già due audizioni nessuna è andata bene non non hanno ricevuto un contratto per cui dobbiamo prima di tutto massimizzare questi e poi presentarci alle audizioni quando la porta si illumina e quindi ci compare la notifica per andare a un'audizione però intanto abbiamo fatto un concerto in questa fase possiamo anche controllare quanti fan abbiamo siamo siamo alla 999esima posizione nella classifica e abbiamo 35.000 fan non tantissimi effettivamente e quando arriveremo tra le prime posizioni capirete perché non sono tantissimi comunque cosa possiamo fare in questa fase le cose che cambiano sono alla porta prima di tutto vabbè il negozio è sempre lo stesso però se andiamo fuori adesso non andiamo più all'accademia musicale bensì possiamo recarci in tre posti diversi e vi faccio vedere quali sono per cui via la prima è la sala prove dove appunto ci esercitiamo con il nostro gruppo la seconda è la fabbrica di dolci dove possiamo lavorare per guadagnare qualche gochi point extra e la terza è la non la fabbrica siamo in un magazzino ecco di frutta e verdura anche qua possiamo andare a lavorare guadagnare qualche gochi point extra andiamo però in sala prove prima di tutto in sala prove ci incontriamo coi membri del nostro gruppo che crescono insieme a noi la prima volta che ci riuniamo col gruppo quando siamo adulti per cui loro si trovano in sala prove con i loro strumenti e qua parte il giochino che è abbastanza difficile vediamo se riesco a farlo funziona come uno spartito il puntino più in alto è il tasto a per cui a a quello più in basso è il c e quello in mezzo è il b dovete premere il tasto corrispondente quando arrivano le note funziona più o meno come uno spartito insomma a e c a a a b c a a e nel frattempo sentite anche la musica del genere musicale che suonano dipende dagli strumenti dal momento eccetera due volte una volta con ogni membro della band per cui a c c a b a c b c b c e così via ah ne ho saltata una speriamo che non sia un problema perché se non facciamo bene le prove però sì abbiamo fino a tre errori da poter fare al quarto vuol dire che non abbiamo fatto bene le prove e quindi avremo minori possibilità la volta la prossima volta che abbiamo un'audizione di ottenere un contratto questo ci permette di aumentare le nostre abilità musicali e quindi di ottenere più velocemente un contratto però più ci esercitiamo con la band è meglio è cioè dobbiamo esercitarci un sacco per ottenere un contratto fondamentalmente poi andiamo a vedere cos'altro si può fare ah notate che se fate male le prove e quindi appunto fate più di quattro errori lo stress aumenta tenete in conto questa cosa andiamo sempre via e vediamo gli altri due posti away allora sarà prove l'abbiamo vista la fabbrica di dolci andiamo alla fabbrica di dolci dove possiamo appunto lavorare per guadagnare soldi extra sì è contenta e qua è uno dei giochi classici del tamagotchi praticamente arrivano dei dolci e noi dobbiamo raccoglierli col braccio meccanico se premiamo il tasto A il nostro va più velocemente per cui dobbiamo raccogliere il dolce che ci interessa e abbiamo il tempo limitato diciamo più dolci raccogliamo e più gocci points guadagniamo comunque è lo stesso gioco che ho trovato anche sul tamagotchi friends ma no è perché sullo schermo del telefono lo vedo leggermente in ritardo rispetto che nella realtà per cui è molto più difficile c'è quel centesimo di secondo che mi fa perdere il dolce e notate che con i lavori appunto cioè questo qua e l'altro nel magazzino di ortofrutta aumenta lo stress per cui la cosa migliore è cercare di arrangiarsi con i soldi che si ha finché non si riceve un contratto però se proprio siete a secco potete venire qua e guadagnare qualcosina non si guadagna moltissimo ma sempre meglio che non mangiare giusto? però vabbè di soldi per ora ne ho abbastanza almeno per mangiare poi se decido di non fare spese pazze logicamente è meglio non fare spese se non per il cibo quando si è senza un contratto però dura tanto ecco ne abbiamo presi 11 poteva andare meglio ma poteva andare anche peggio non so quanto è il massimo non sono mai riuscita ad arrivare al massimo comunque il punteggio è buono e abbiamo guadagnato 250 gochi points se vincete il gioco cosa che in questo gioco non mi è mai capitato lo stress non sale invece se non lo completate a livello eccellente purtroppo lo stress sale infatti adesso è a 8 vediamo anche l'altro posto il secondo lavoro che si può fare mentre non si ha un contratto per cui magazzino ortofrutticolo anche questo è un gioco che abbiamo già visto mi pare nei tamagotchi precedenti o in quelli successivi ecco qui dobbiamo acchiappare il frutto che cade facendolo corrispondere con la cassetta della frutta sotto fondamentalmente e ci spostiamo con i tasti A e C per cui qua una rapa qua una pera devo già spostarmi e se ne cadono due contemporaneamente chiaramente devo fare corrispondere entrambe le cassette ecco adesso stanno cadendo due di questi e devo farli corrispondere devo far scorrere il nastro finché non trovo la soluzione giusta se la trovo in tempo quasi mi stavo fermando su quello giusto ma l'ultimo non ce l'ho fatta vabbè comunque abbiamo guadagnato 250 gocci points e questo è ciò che posso fare per guadagnarmi da vivere finché non ho un contratto poi fino a due volte al giorno mi pare appunto c'è l'audizione come stavo dicendo prima e ho un tot di possibilità per farmi accettare dalla giuria praticamente abbiamo tre tizi che ci giudicano dopo la nostra performance in quel caso il gruppo suonerà automaticamente voi non dovete fare niente durante l'audizione appunto vi giudicano e se tutti e tre vi danno la crocetta vuol dire che avete passato no scusate non la crocetta il pallino vuol dire che avete passato l'audizione se uno solo dà una crocetta avete perso l'audizione per cui sì questo è ciò che succede nella fase da adulto pre-contratto quindi questo per ora è tutto ci vediamo quando e se riusciremo ad ottenere un contratto grazie Grazie a tutti. 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 E questo è tutto per l'età adulta. Grazie a tutti. 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 questo costume per tutto il giorno finché non andrà a dormire. Vediamo altro. Scusate, è andato un po' fuori fuoco. Ho anche il costume da cane, come avete visto. Fuoco. Il negozio di giocatori l'abbiamo già visto ed è un altro modo per guadagnare soldi. Più si è in su nei punti della classifica e più si riesce a vendere facilmente perché è un personaggio famoso per cui si va al negozio di un personaggio famoso. Un'auto? Avevo già acquistato un'auto e questa è l'animazione. Andrà in giro per la città guidando la sua auto. Mi fa troppo ridere. Un gatto alla guida praticamente. Comunque per mantenere il posto in classifica e non scendere nella classifica dovete comunque esercitarvi ogni giorno. Poi magari cambiando gli strumenti rimanete nella classifica in prima posizione e potete cambiare il genere musicale per vincere un altro un altro premio. È un po' lo scopo del music star. Quindi direi che per l'età adulta è tutto. La prossima volta vedremo la fase del matrimonio che è quella conclusiva della generazione. Per cui vi ringrazio per l'attenzione. Se avete commenti o domande scriveteli e vi auguro una stupenda giornata. Ciao a tutti!